La situazione siciliana è a questo punto possiamo dire drammatica perché è passato un'estate completamente priva delle piogge che a volte bagnano la Sicilia ad agosto e a settembre ed è passato un intero autunno senza piogge. A parte qualche raro rovescio e delle condizioni particolari nella zona degli altinebri dei peloritani, per il resto la Sicilia ha avuto una stagione completamente secca e questa cosa è ovviamente visibilissima nei nostri bacini, sui nostri fiumi. Siamo a Pergus ad esempio, lago naturale, diciamo il superstite tra i laghi naturali della Sicilia e come potete vedere alle mie spalle la condizione è praticamente quella di un lago in totale crisi, ma questa crisi che qui è evidentissima dal punto di vista naturale è tal quale è nella stragrande maggioranza dei nostri bacini artificiali, quelli che sono i serbatoi sul tetto per capirci, della nostra agricoltura e delle nostre case. Tutta la parte della Sicilia centrale, meridionale, beve letteralmente solo dall'Ancipa, che è un nostro bacino sui Monti Nebrodi, che in questo momento non è in sofferenza, a differenza di quanto non sia per gli altri, però sui Nebrodi ancora non ha nevicato più di tanto, il che significa che rischia comunque di non avere quella stagionalità di riempimento che ci garantisce l'acqua durante tutta l'estate e questa cosa deve farci pensare, perché evidentemente intanto si potrebbe profilare una sorta di, mi permetto di dire così, conflitto tra quella che è la necessità di utilizzare le acque a scopo idropotabile, cioè per berle, per utilizzarle per la gente e quella di utilizzare l'acqua invece per l'agricoltura che ovviamente la richiede. Le condizioni sono tali che si profila veramente questo rischio, se non dovesse piovere abbondantemente durante la seconda fase dell'inverno che ci aspetta e diciamo che il meteo anche odierno non ci fa pensare bene, certamente il rischio che corriamo è quello di andare incontro a gravi conseguenze. Questa allarme vale anche per quanto riguarda i bacini dal punto di vista dell'utilizzazione per esempio la produzione dell'energia elettrica, meno acqua ci sarà invasata, meno costante potrà essere la produzione. Per quanto riguarda l'uso delle acque e dei bacini per lo spegnimento degli incendi, che è una questione enorme per la Sicilia che così come abbiamo detto più volte come lega ambiente è sottoposta a questa ulteriore dimostrazione di disattenzione anzi probabilmente come se fosse una sorta di odio precostituito nei confronti della natura siciliana. I nostri elicotteri, i nostri canader non saprebbero più dove andare a prendere l'acqua se non direttamente dal mare, il che significa con tempi e con costi di gran lunga superiori a quelli che possono essere quelli determinati dall'uso dei nostri laghi. Servono micro bacini diffusi sul territorio, piccoli laghi, cosiddetti laghi collinari che possano comunque mantenere l'acqua nella parte interna dell'isola senza bisogno di andare a fare enormi infrastrutturazioni. Grazie a tutti.